Parliamo di amplificatori a zone per filodiffusione, filodiffusione è un termine non correttissimo ma tutti lo usiamo, lo uso quindi anch'io e per amplificatori e amplificazioni a zone separate alludo alla volontà di voler fornire ai vari ambienti della nostra abitazione, della nostra ditta, dei nostri uffici di una diffusione sonora con un minimo di controllo tra una zona diversificata rispetto all'altra viceversa avremo la stessa musica e la stesso volume dappertutto in tutte le zone della nostra attività se quindi siamo in un'abitazione con la camera A, il salotto B e E, il bagno C o in un ufficio con l'ufficio di presidenza, il corridoio alla reception o in una ditta in cui abbiamo lo stabilimento principale e la zona di carico e scarico e vogliamo dotare il nostro impianto di diffusione sonora controllabile separatamente per ogni zona dobbiamo quindi adottare un amplificatore non tradizionale ma un amplificatore a zone e gli amplificatori a zone sono di tre tipi a seconda delle modalità di controllo che offrono al proprietario, all'utente dell'impianto modalità di controllo che sono appunto diverse a seconda di quale di queste tre categorie di amplificatori stiamo adottando la prima categoria è quella più semplice che prevede il sezionamento quindi l'acceso spento delle zone della prima, della seconda, della terza e della quarta zona dico quattro perché spesso gli amplificatori sono a quattro zone, ce n'è qualcuno a sei zone ma sono più rare quindi con un amplificatore del primo tipo, che sono tra l'altro quelli più economici potremmo decidere di accendere o spegnere la zona A, accendere o spegnere la zona B lasciare accesa la zona 4 e la 1 e spenta la 2 e viceversa non è una cosa complicata, infatti gli amplificatori con questo tipo di zonizzazione sono relativamente poco costosi perché non si tratta altro che di interrompere il flusso che va alla zona 1, 2, 3 un po' come se tagliassimo il filo della zona 2 e poi lo ricollegassimo quando ci serve diverso è il tipo di gestione invece della seconda categoria di amplificatori a zone che prevedono la possibilità di modificare il volume di ciascuna delle zone quindi alziamo la zona numero 2, abbassiamo la zona numero 1 e mettiamo al massimo la zona numero 3 e via dicendo in questo caso ogni zona ha un suo volume, è già un passo avanti rispetto alla soluzione precedente infatti l'amplificatore costa di più non solo per la presenza del potenziometro ma perché questo vuol dire che all'interno dell'amplificatore ci sono veramente 4 amplificatori che noi andiamo a regolare a seconda del volume su quale abbiamo appena agito appunto quindi prima categoria acceso spento tra le varie zone, seconda categoria modalità di controllo del volume tra le varie zone, 4 o 6 che siano, terza possibilità, ovviamente possibilità di cambiare il volume tra le zone ma anche di variare la sorgente sonora che sentiamo nella zona 1 rispetto alla zona 2 rispetto alla zona 3 eccetera eccetera quindi nella zona 1 possiamo sentire la partita, nella 2 possiamo sentire la musica classica nella 3 e nella 4 possiamo accedere al microfono per mandare dei messaggi è il tipo di amplificatore a zone più costoso perché capite che serve un intreccio tra preamplificatore e amplificatori finali separati uno dall'altro però ovviamente quello che ha maggiore versatilità quando viene richiesta una separazione a zone ancora una volta quindi se state pensando a questo tipo di amplificatore guardate bene a quale categoria appartenga l'amplificatore in oggetto tipo 1 2 o 3 li trovate ad esempio nella sezione amplificatori a 100 volte a tensione costante sul nostro sito che è www.ilmicrofono.it troverete una serie di amplificatore del primo, secondo, terzo tipo con un numero variabile di zone possono essere 4, possono essere 6 per un numero superiore di zone in molti casi è richiesto un numero di zone ancora superiori alle 6 non si farà più uso di amplificatori singoli ma di matrici cioè un oggetto esterno che permette di gestire un numero elevato di sorgenti e un numero elevato di destinazioni un po' come si faceva ai tempi dei centralini quando la centralinista appunto inseriva gli spinotti e faceva parlare me che chiamavo da Oggiono con il signore Giuseppe di Viterbo o me che sono ad Oggiono potevo ricevere la telefonata da Sydney solo sfilando e sfilando degli spinotti nella loro matrice appunto ovviamente non si agisce più con gli spinotti adesso siamo nel 2020 la tecnologia è molto più voluta ma per un impianto a zone separate con un numero di zone da gestire superiore alle 6 o dove è richiesto un certo grado di raffinatezza si fa ricorso alle matrici se questa fosse la vostra necessità sinceramente vi consiglio di interpellarci di mandarci una mail con la richiesta il più possibile particolareggiata di quali sono le esigenze corredata da una piantina corredata dalla vostra ragione sociale in modo da fare un preventivo intestato specificando bene quali siano le esigenze in modo da metterci in grado di scegliere il diffusore A dal diffusore B, il diffusore A muro, il diffusore incasso, il diffusore da discoteca rispetto al diffusore da musica diffusa ecco nel caso di una richiesta di preventivo vi chiedo di essere più possibili dettagliati perché la nostra volontà è quella di fare un preventivo centrato sulle vostre esigenze non casuale e allora il sito sul quale trovare tutto quello che vi ho detto è www.ilmicrofono.it il canale youtube dove state guardando questo video è il canale del microfono visitate il sito, iscrivetevi al canale se siete interessati all'audio professionale per lo spettacolo, l'intrettenimento ma anche per l'uso civile e industriale in locali pubblici in uffici, ditte, caserme, navi da crociera e tutto quello che vi può venire in mente a presto grazie a tutti